Buongiorno carissimi Buongiorno amici di Visione TV, benvenuti al nostro consueto controcanto della mattina. Come sapete oggi è mercoledì 19 luglio, però non è una giornata come tutte le altre, è una giornata devastante come ci racconta la Repubblica dei Transumani con temperature schizzate oramai oltre il livello di guardia. A Roma si segnalano cammelli, passeggiare in via Condotti, le persone si squagliano insieme ai gelati fuori nelle strade principali dove ci sono i turisti, è una situazione disperata. Il ministro Schillaci ha adottato il cosiddetto codice calore nei pronto soccorso, ma sembra non bastare di fronte a un aumento incredibile delle temperature. Mentre parliamo anche i tasti del computer si stanno squagliando, quindi cercheremo in ogni caso di portare fino in fondo il nostro lavoro, nonostante il caldo sia assillante anche qui nella redazione della nostra TV. Cominciamo dalla Repubblica dei Transumani che punta sul salario minimo, dice battaglia sul salario minimo, l'ostruzionismo impedisce alla destra di affossare la proposta, ma il K.O. è solo rinviato. Schlein dice con che coraggio dite di no, dice Tajani non siamo in Unione Sovietica con stipendi tutti uguali, al sud meno di 9 euro l'ora per un lavoratore su 4. Meloni a Palermo, per ricordare Borsellino, però diserta la fiaccolata. Oggi ricorre l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Gli anni del 92-93 cambiano il corso del potere in Italia. Si è trattato di fatto della nostra rivoluzione colorata con poteri sovranazionali che hanno gestito, garantito, pilotato il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Sono segreti di Pulcinella, però evidentemente considerato il vero ruolo esercitato dai padroni sovranazionali nel garantire quella fase utilizzando manovalanza locale e poteri corrotti, è chiaro che dopo 30 anni ancora si cerca una verità che è semplicemente il nostro Paese, non ha il coraggio né la forza di guardare. Però è una verità che le persone libere e intelligenti hanno colto perfettamente da tempo. Andiamo avanti. Ecco qui, vedete qua, c'è una donna che è svenuta proprio con la testa così, insomma mentre stava passeggiando a Roma, a un certo punto è svenuta, è rimasta per sei giorni con la testa così nell'acqua. Il fotografo di Repubblica ha preferito immortalarla anziché tirarla fuori perché evidenzia proprio la situazione disperata. Vedete qui la colonnina di Mercurio ha superato i quali, ora non si vede perché non c'erano i numeri fino a 100, però ha toccato i 94-95 gradi. Ecco, un quarto dei ricoveri è causato dal grande caldo. ospedali sotto pressione, ci sono proprio il calore, mette in ginocchio le città, migliaia di persone ai pronto soccorso dopo un malore, a Roma temperatura record, il Ministero della Salute lancia il numero 1500 per le emergenze. Vedete queste immagini devastanti, dovreste farle vedere ai cosiddetti negazionisti climatici, nel frattempo vi avvertiamo che anche qui sta aumentando la temperatura, siamo intorno ai 75-76 gradi. Fate vedere queste immagini ai perfidi negazionisti, vedete il caldo, qui c'è persone ustionate, gente che scappa di queste tempeste di sabbia, ecco la signora poi che è rimasta lì, ne abbiamo già parlato. Fortunatamente Michele Bocci non ha paura di dire la verità e ci dice che non sono solo gli anziani che accusano i colpi di calore, questa è una banalità, anche i giovani li possono accusare. E nei pronto soccorso italiani le vittime dell'ondata di AFA sono tante, provocano un aumento del 20% degli accessi. Ci sono persone, ad esempio, che arrivano completamente scottate, bruciate, preda ad un'insolazione, gente che è confusa, insomma ne arrivano di tutti i tipi. Non solo, più o meno un quarto sono quelli che vengono assistiti perché hanno problemi direttamente o indirettamente legati al caldo. Ieri a Roma si sono spiorati i 42 gradi, per due però in realtà, sono 84, un po' che ne riportavano, 93-95, i nostri tecnici hanno fatto i calcoli precisi. Le chiamate al 118 sono aumentate del 15%. È andato peggio in Sicilia e in Sardegna, sono stati raggiunti picchi di 47 gradi tra Mazzara del Vallo e Sciacca, ecco, insomma, sono davvero picchi che non si possono resistere. Gli anziani devono stare a casa, non dovete uscire, come ve lo dobbiamo dire, e i parenti devono aiutarli, quindi sono i parenti che devono andare a vedere come stanno gli anziani, perché gli anziani non devono uscire. A Roma, nonostante il caldo clamoroso, ci sono però tantissimi turisti e anche i turisti, che ne dicano altri esperti, rischiano il colpo di calore, cioè il colpo di calore non è una prerogativa della popolazione indigena, ma pure l'inglese che passeggia in Italia in questi giorni così devastanti può subire, come tutti gli altri, il colpo di calore. Ormai coloro che hanno problemi legati alle alte temperature sono tantissimi, sono il 25% di quelli che affollano i pronto soccorso. Schillaci lunedì ha diffuso una circolare dove chiede l'attivazione del codice calore. Praticamente funziona così, uno arriva al pronto soccorso, magari non riesce a parlare perché è mezzo squagliato, è bruciato, devastato dal calore, magari c'è quelle bolle tipiche, avete presente quando uno si brucia, è pieno di bolle, lo capisci, appena arriva il medico, non riesce a parlare perché magari le labbra non ce le ha più a causa del calore, allora arriva così con queste bolle, senza labbra, lo capisce subito, un medico attento, magari anche con l'ausilio di un gruppo di meteorologi che sono stati in queste ore affiancati ai principali pronto soccorso italiani, ci sono una serie di medici cresciuti alla scuola di Bernacca fuori dai pronto soccorso che aiutano il medico a capire, a individuare il colpo di calore, magari non riesce a parlare il paziente, l'esperto lo guarda e dice no, questo sta qua per il colpo di calore. Alpena è arrivato, subito in codice calore, si viene portato dentro una specie di cella frigorifera dove ci sono una serie di ventilatori rotanti, tre, quattro orso polari, due pinguini per creare l'atmosfera, perché anche a livello, alcuni studi dicono che anche a livello psicosomatico, la vista di animali che popolano zone fredde aiuta l'uomo in preda al colpo di calore, quindi uno sta lì, magari così, sdraiato, tutto sudato naturalmente, appena arriva gli fanno queste flebbo di acqua minerale, vede frigoriferi dappertutto, pinguini che scorrono, poi un grande maxischermo dove si vedono grandinate, e allora lui, siriano, dice oddio, allora non fa così caldo, fa freddo e si riprende. Insomma, questo è il codice, in estrema sintesi, poi magari faremo una puntata ad hoc per spiegarvelo meglio, però in estrema sintesi questa è la procedura d'emergenza per affrontare il colpo di calore. Il tema del caldo è stato, e anche quello del cambiamento climatico, è stato affrontato ieri da Hans Kluge, che è il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa. Ecco, c'è un bisogno disperato di un'azione globale per affrontare la crisi climatica. Ma perché non chiamate Bill Gates? Volevo oscurare il sole, quella sì che è una bella idea. Rappresenta una minaccia per l'esistenza della umanità. Ha ricordato Kluge i 60.000 morti per il caldo nel nostro continente che sono stati calcolati dai ricercatori francesi e spagnoli. Dobbiamo adattarci, questa è stata la nuova, in realtà pensare a soluzioni a lungo termine che richiedono azioni globali adattate a livello locale. Bravo, Kluge, ecco, queste sono parole di buonsenso, non come quei negazionisti che mi dà fastidio pure pensarli. Ve li ricordate? Brutti, andavano in giro, negavano il Covid, negavano questo, negavano quello. Sono proprio sempre negativi. Adesso, naturalmente, che fanno? Negano il cambiamento climatico. Perché c'è proprio la negazione nel sangue, la negatività nel sangue. Però, insomma, queste persone, purtroppo, bisogna compatirle. Va bene, prima di passare al Corriere della Sera, vi voglio leggere un altro articolo di Repubblica che non riguarda questa volta il caldo, ma riguarda l'intelligenza artificiale, che tra l'altro è il tema di una delle monografie del nostro mensile visione, un altro sguardo sul mondo. Il secondo numero è stato dedicato proprio all'intelligenza artificiale. Continuano questi cervelloni a interrogarsi sulla pericolosità o le opportunità offerte dagli algoritmi. L'ONU, quindi, si mobilita e dice che l'intelligenza artificiale avrà regole mondiali. Gutierrez dice che può combattere la povertà e le malattie, però può anche aiutare i criminali. E su questo siamo d'accordo. Cioè può aiutare i criminali, ad esempio, che gestiscono la comunicazione mondiale e attraverso gli algoritmi censurare le persone libere che dicono cose serie e normali e invece pubblicare e difendere tutte le stupidaggini che vengono raccontate da idioti che però raccontano la storia che il potere vuole sentirsi dire. Quindi su questo siamo d'accordo. Ci ha parlato l'austriaco Turk, che è alto commissario per i diritti umani ed è turbato il povero Turk dal potenziale danno che l'intelligenza artificiale potrebbe arrecare alla dignità e ai diritti umani. Quindi, insomma, un po' di preoccupazione ce l'ha Turk. L'intelligenza artificiale può risolvere le guerre, può contribuire in modo determinante alla lotta al terrorismo, ha le potenzialità per cancellare la povertà e la fame nel mondo, curare malattie, contrastare i cambiamenti climatici. E' una specie di dio, è una divinità, è il nuovo vitello d'oro, può fare tutto. Può fare bianche ricrescere i capelli, può fare sparire il caldo, può fare tutto questa intelligenza artificiale, ma purtroppo potrebbe anche minare la stabilità delle nostre democrazioni. Allora, su questo non ti preoccupare, perché l'avete già minata voi benissimo. Quindi non dare la colpa all'intelligenza artificiale di questioni che avete già compromesso voi in maniera molto efficace. Poi dice che la Cina fa scattare la censura. Il leader Xi Jinping considera l'intelligenza artificiale una minaccia alla sicurezza nel paese. Gli algoritmi saranno ritenuti compatibili solo quando dovessero abbracciare i valori socialisti. Negli USA ci sono controlli severi. La scorsa settimana è stata aperta un'indagine su un'open eye e sulla sua creatura, chat GPT, che metterebbe a rischio i dati personali e la reputazione dei singoli individui. Insomma, un dibattito davvero di altissimo livello. Ma la cosa che è più preoccupante oggi non è l'intelligenza artificiale. Oggi noi dobbiamo concentrarci sul vero dramma dei nostri tempi, dei nostri giorni, che è quello del caldo. È quello del caldo. Quindi non perdiamo tempo con l'intelligenza artificiale, con la guerra, con altre cose del genere. Torniamo a occuparci del vero dramma di oggi. Ecco, vi volevo solo segnalare, che me ne avevo dimenticato prima, che sul Repubblica hanno avuto il coraggio di intervistare il commissario alla siccità, ecco vi segnalo solo questo, che proprio per non lasciare nulla al caso, si chiama Nicola Dell'Acqua. Ecco, cioè non è uno scherzo. Si chiama così, si chiama Nicola Dell'Acqua. Se avessero dovuto nominare uno commissario per la desertificazione, avrebbero chiamato Pasquale Arido. Invece questo qui è commissario, vedete qua, per i bacini idrici, e hanno chiamato dall'Acqua. Quindi è tutto fatto per bene, nessuno può pensare che le cose vengano fatte per caso. Cioè sono fatte a regola d'arte. Andiamo a leggere il Corriere della Sera che apre su Borsellino, ricordo e tensione, dice l'inchiesta sulla Russa Junior, indagato anche l'amico DJ, Sant'Anché, emozione di spituci in aula il 26, Meloni oggi sarà a Palermo per le celebrazioni, scontro su tasse e giustizia. Ecco, prima di parlare di Zeleschi però, perché parlano oggi della contro-contro-offensiva di Donald Trump che sarebbe indagato anche per il presunto assalto a Capitol Hill. Ecco, il momento più bello è questo. Ci mancavano tanto questi momenti didascalici, questi momenti educativi che avevamo imparato ad apprezzare al tempo del Covid. Ecco, voi vi ricordate quando, nel momento più buio dell'emergenza psicopandemica, la dolcissima Margherita De Bach, ogni giorno sentivano espertono di quelli professor Tizio, c'era le foche che Dio la benedocca, che diceva, no, questo non si fa, questo non si deve fare, col col col, la mano non ve la dovete dare, vi dovete salutare, il bacio non si può dare, l'amore si può fare con una distanza di tre metri, chi ce la può fare, insomma, beato lui. Ma questo non si fa, quell'altro neanche, non si esce, non si entra, non si parla, non si respira, non si mangia, non si tocca. Ogni giorno ci davano questi consigli, tutti molto intelligenti, tutti poi rivolti a un pubblico di oltre sei, sette mesi. Adesso ci mancavano, perché non sapevano più che fare, davano consigli memorabili, tipo, se avete il col, la febbre, non starnutite in faccia alla gente, cioè cose che nessuno avrebbe immaginato senza di loro. E adesso Margherita De Bach può tornare a fare quello che le viene meglio, cioè intervistare qualcuno, oppure dare, questa volta, chi li ha fatti questi consigli? Questi li ha fatti sole, che non c'è. Ecco, dare consigli che servono, in consigli indispensabili, per vivere meglio. E ora, dieci consigli, li volete sapere? Fate attenzione, io vi consiglio di iscriverli pure, così poi ve li dimenticate. Dieci consigli contro l'AFA. Ecco, perché ieri ci sono state temperature estreme, la Tallicata, ad esempio, in Sardegna, 150 gradi, 9000 gradi. Allora dovete sapere come si proteggono i bimbi in carrozzina, acqua liscia o gassate, panini coca ve la dà pure, gratis, va bene pure. Però ora vi dirà se ai bambini gli dovete dare l'acqua liscia oppure gassata. Allora, bambini, quindi vedete, punto 1, cominciamo con i bambini, come si proteggono i bambini quando fa caldo? I colpi di caldo sono un rischio, ci dice Margherita, anche per i bambini, perché non avvertono il senso della sede, il bambino non è che è avvertetato, sta là con il giuccetto, se lo toglie, se lo mette, poi lancia una cosa, non è che sta lì a pensare, non è sviluppato il bambino come Margherita De Bacche, no? E dice, ho caldo, non lo fa, perché lui sta là, pensa, guarda le cose, c'è il babaglino, si sputa, è fatto così il bambino, lo sappiamo. Quindi non ce l'ha la precisione di dire, ho sete perché fa caldo, non ce l'ha. Quindi noi dobbiamo guardarlo il bambino, no? Se non respira, e vuol dire che sta male, ecco, se ha la nausea, è apatico, non parla, non vuole fare niente, ecco, vuol dire che la situazione è grave, e in questi casi non lo dovete mettere al sole, cioè ci sta morendo di caldo, corriamo subito, no, a metterlo sotto il sole, oppure avviciniamolo al forno, accendiamo il camionetto e mettiamo il bambino, che non ha bene, no, questo non va bene, dovete fare un'altra cosa, dovete mettere all'ombra, ecco, sembrerà strano come consiglio, ma uno che ha preso troppo sole, va messo all'ombra, io non ci sarei arrivato, però, Margherita dice così, è uno disidratato, anche questo, uno che ha sete, no, io pensavo, tutto il giorno, ora mi caccio pure gli occhiali, cioè uno che ha sete, no, che cosa puoi fare per uno che ha sete, dice, ma che ha sete, che fai, che fai, lo porti allo stadio, no, gli fai mangiare una, insomma, una pasta e cozze, no, gli devi dare acqua, vedete visto, sembrava una cosa facile, invece a tanti sfugge, acqua però, lo dovete idratare con acqua, non è che gli date un litro di vino, non va bene, acqua al bambino, perché il bambino, se gli date un litro e mezzo di vino, un pochino si idrata, però magari non va bene, non gli fa bene, perché ancora non ha gli enzimi epatici pronti, capite, quindi, se vi viene voglia di dire, il bambino ha sete, va bene, diamogli una birra, non va bene, acqua, acqua, possibilmente, liscia, cassata, non importa, basta che sia acqua, poi, abbiamo fatto bambini, ecco, terzino destro, sonno, sonno, la notte vi viene sonno, no? Anche col caldo, c'è una seconda notizia, quasi incredibile, è che si dorme anche d'estate, uno pensa, no, l'estate non dormo, la notte è giovane, esco, no, la notte bisogna dormire, però non è semplice, perché la temperatura, fa caldo, fa caldo, però la temperatura del corpo, deve scendere almeno, di un grado, addio, se no addio sonno, in camera da letto, ci devono essere le condizioni giuste, per il raffreddamento, allora, magari, non so, vedete, po', se avete bisogno di raffreddare, sta camera da letto, che è proprio, assolutamente riscaldata, fatelo, però, con il pigiama, di lino, e di seta, che insomma, prima riscaldate, col pigiama di seta, magari un pigiamino, più, quelli più belli, che fa riscaldare l'ambiente, quando poi l'ambiente è riscaldato abbastanza, ve lo cacciate il pigiama, e vi raffreddate, per almeno un grado, quindi, andate a dormire pure qua, ben idratati, cioè, non è che hai sta mania di non bere, ecco, questo è un consiglio poetico, questo è il più bello, questo qui, allora, abbiamo detto, che dovete andare, prima, con l'ambiente riscaldato, con un bel pigiamino, magari, un completino di quelli, sapete voi, camera da letto, vedete voi, e andate lì, poi lo raffreddate, prima l'avete riscaldato, poi lo raffreddate, idratati naturalmente, non a stomaco pieno, perché sennò, uno pure nei movimenti, non è che dà il meglio, in camera da letto, quindi a stomaco quasi vuoto, però, prima ancora, per riscaldare di più l'ambiente, dovete guardare il tramonto, non è uno scherzo, allora, mi raccomando, non sbagliate, che tanta gente sbaglia, allora, se avete caldo, chiamate la vostra compagna, il vostro compagno, vieni qua, vedi che sono quasi le sei, vieni che c'è il tramonto, non te lo perdete il tramonto, se no il caldo aumenta, se proprio lo perdete però il tramonto, dice Margherita, allora, vi dovete mettere la sveglia, alle cinque, alle quattro e mezza, e dovete vedere l'alba, insieme, perché questo, non perché è pazza, Margherita, come pensano i banali, no? I negazionisti, ma perché la luce, regola il orologio biologico, capito? Non è che uno dice così, ma per romanticismo, dice che è romantica, no? Tesoro, vieni, quanto tempo è che non guardiamo il tramonto stretti, in un unico dolce abbraccio, da quanto tempo non lo facciamo, amore? Da tanto, ma non lo dovete fare per questo, perché invece lo dovete fare, per il orologio che ora è, le quattro, vieni che c'è l'orologio biologico, che se no alle cinque non funziona più, lo dovete fare per questo, va bene, quindi siamo, siete messi bene finora, quindi abbiamo detto i bambini, l'abbiamo fatto, il sonno, ora, non è che ci sono pure gli animali, non è che l'animale non ha caldo, l'animale, specie l'animale magari quello col pelo, poveraccio, ha caldo, soffrono il caldo come noi, i cani però non sudano, quindi già è una cosa buona, respirano con la bocca, cioè a differenza dei giornalisti del Corriere, che respirano con le mani, respirano così, questi invece respirano con la bocca, i cani, e non riescono a sostenere il calore, si surriscaldano, portarli a spasso, col fresco, perché si possono bruciare i polpastrelli, andando in giro con il caldo, in spiaggia pure loro devono stare sotto l'ombrellone, i gatti non li portate in giro, perché loro sono più casalinghi, i gatti stanno a casa, quindi gli animali li abbiamo detti, l'aria condizionata va bene, all'esterno le ore proibitive, sono dalle 11 alle 17, anche nei parchi, non è che ti vado nel parco, puoi andare alle 11, no, sono proibitivi questi orari per tutti, agli anziani non date medicina, l'acqua date come medicina, l'acqua miracolosa, il farmaco più efficace, ecco ancora l'acqua, la sudorazione aumenta, quindi d'estate si perdono liquidi, che si suda, poi si perdono altri liquidi, la disidratazione rallenta tutte le funzioni dell'organismo, l'acqua va bevuta regolarmente, a intervalli durante la giornata, non è che dite io sono pigro, ora mi bevo 6 litri direttamente all'8 di mattina e sono a posto, non è vero, lo dovete bere un po' alla volta, a piccoli intervalli, ecco deve contenere sodio e potassio, liscia, gasata, non fa differenza, anche perché le bollicine, una volta ingerite, si dissolvono e non gonfiano, quindi state tranquilli, anche gasata va bene, l'acqua certo, meglio non gelata, ecco se vi bevete un bel litro d'acqua ghiacciata, tutti sudati, magari non vi fa benissimo, mangiate poco e spesso, partendo dalla prima colazione, certo perché cominciare dalla seconda colazione è quasi impossibile, perché se uno comincia, dice che fai la prima, se è la prima, è la prima colazione, però riuscire a fare in modo che la prima colazione non sia la prima della giornata, è un fenomeno complicato, quindi la prima colazione è la prima, quindi la fate e va bene così, non dovete pretendere che la prima colazione sia la terza, sia la quarta, è impossibile, non ce la fanno manca al corriere, quindi semplicemente, dice che ora è le otto, mi faccio la prima colazione, e va bene, potete mangiare pietanze poco condite, preferibilmente fresche, ecco perché magari cibi scaduti, avariati, obiettivamente non fanno bene alla salute, in auto, il guidatore, ecco questa è una figura che è rischiosa, perché c'è il guidatore, che va incontro a una rapida disidratazione, si vedono in questi giorni, nelle principali autostrade italiane, persone disidratate, che in macchina, con le braccia fuori dal finestrino, con la testa penzolante, perché a causa della disidratazione, il guidatore va incontro a questi problemi, non guidate in costume da bagno, ecco, io non so chi frequenta, ma mi ha detto, perché non so chi va in giro, in costume da bagno a guidare, in caso di lieve incidente, si possono generare lesioni, certo, l'aria condizionata è una sicurezza, evita il ricorso a comportamenti sbagliati, sono utili pure le pellicole riflettenti, sul cruscotto, vestiario, vestitevi in tessuto naturale, ecco magari pelle umana, cose naturali, cotone, lino bianco, lino bianco, lino bianco, lino, lino, sì, di colore chiaro, che non attira i raggi, il cappello sempre, non vi voglio vedere senza cappello, ve lo sto dicendo, ognuno di voi deve stare col cappello, se vedo qualcuno senza cappello, finisce male, quindi sempre il cappello, anche di notte, dovete dormire col cappello, vi sono stati, sono serviti questi consigli di Margherita De Bacchia del Corriere, è cambiata la vostra vita, sapete qualcosa in più di prima, ecco, io mi auguro di sì, quindi uno dice il giornalismo italiano, fanno solo gose, ma no, il giornalismo italiano aiuta la popolazione ad affrontare drammi come questo, con dei consigli, proprio stratosferici, adesso mi dispiace passare da cose così serie a banalità, però lo dobbiamo fare, è il nostro lavoro, e parliamo della controoffensiva ucraina, che ora si è trasformata nella contro, controoffensiva russa, è molto semplice capire come va l'andamento della guerra, quando i giornali non dicono niente, fanno finta che la guerra non ci sia, evidentemente perché gli ucraini amici loro stanno pigliando un sacco di botte, siccome non sanno più cosa inventarsi per dire che vincono, che hanno conquistato un villaggio, che hanno recuperato 18 centimetri di terreno, allora stanno zitti, però adesso, qualcosina la devono pur dire questi poveracci, e oggi, una mezza verità, sono costretti a spiegarlo. Adesso, Zelensky, temi il contrattacco di Mosca, 100.000 soldati russi, a est, l'armata ammassa truppe e mezzi, verso Limanne, e Kupiansky, l'articolo è di Andrea Marinelli e Guido Olimpio, e Cremonesi non ce l'ha fatto oggi a scrivere, perché era desidratato, evidentemente, quando ha saputo sta notizia era desidratato, poi non c'era Margherita De Bach per dargli un po' d'acqua, quindi non ce l'ha fatta a scrivere, e hanno scritto loro due, dice, la fase è delicata per Kiev, l'offensiva non procede come avrebbe voluto, è palpabile la preoccupazione di non ottenere risultati decisivi, ma la colpa non è dell'esercito di Zelensky, la colpa è del cambiamento climatico, perché tanti mezzi militari inviati dall'Occidente si sono squagliati, al suo non è stato Putin che li ha distrutti, i carri armati Leopard ad esempio si sono squagliati, i leader militari ucraini temono una contro-controffensiva di Mosca, che li costringe a spostare truppe dal fronte meridionale, e mandi all'aria i piani, i russi avrebbero concentrato 100.000 uomini nel settore orientale, avrebbe ammassato anche 900 carri armati, 555 sistemi di artiglieria, 370 cannoni semimoventi, numeri non confermati da fonti indipendenti, gli ucraini sarebbero sulla difensiva, stanno trasferendo forze addizionali e mezzi, comprese le divisioni aviotrasportate, per fermare la nostra offensiva nell'area di Bakhmut, dice il comandante delle forze terrestre ucraine, SISC. Allora vi ricordate qualche giorno fa, qualche settimana fa, questi mentitori del Corriere, cosa ebbero il coraggio di scrivere? Bakhmut riconquistata dagli ucraini, ve lo ricordate che avevamo conorsi, l'avevamo commentato in diretta questa butata, naturalmente non era vero nulla, gli russi intrappola come topi, non era vero nulla, l'ennesima fake news è che siete degli imbroglioni, siete proprio degli, vi piace invece, siete proprio dei mentitori seriali, degli imbroglioni totali. Va bene, quindi adesso invece sono costretti a dire una parte di verità, Putin non se l'è presa per l'attacco in Crimea, vuole migliorare la sicurezza, c'è l'aspetto tecnico, dice la marina ucraina, priva di navi, e la sua intelligence sono al lavoro per moltiplicare i mezzi da impiegare in questi assalti contro la Crimea, ne allungano il raggio d'azione, magari con l'aiuto di un'unità madre, provano a renderli più potenti, in qualche caso gli ucraini si affidano alla inventiva. Vabbè, è un pezzo, come dire, minimalista, anche Repubblica parla dell'imminente contro-contro-offensiva russa, si capisce che sono tutti spiazzati, questi giornalisti occidentali, nel dover ammettere che hanno detto un sacco di stupidaggini, dicevano che i russi non hanno più missili, che l'economia di Mosca è strangolata, che le armi della Nato avrebbero devastato completamente Mosca, non è successo niente di tutto questo, continuano a perdere, non sanno come uscire dalla trappola dentro la quale si sono ficcati da soli, attraverso menzogne ripetute all'infinito, che non sono trasformate in realtà, e ora questi poveri disgraziati devono cercare piano piano, di abituare la gente, i loro lettori, ad una verità che prima hanno gelato, lentamente spostano il tiro, cominciano a dire qualcosina di vero, per dire che la situazione sta cambiando adesso, e provare a coprirsi, per non dover ammettere che fino ad oggi invece hanno sempre miseramente mentito. Andiamo avanti, perché c'è questa storia che adesso comincia davvero a stancare, c'è questo potere profondo americano, dei globalisti, dei progressisti, che controllano l'FBI, i servizi segreti, la grande stampa mainstream, le alte burocrazie, che vogliono continuare ad utilizzare queste strutture di potere per impedire una democrazia compiuta, cioè per impedire che figure non controllate da questo sistema possano arrivare a guidare il paese. Ora, Trump evidentemente è un uomo che può piacere o no, fa tante cose anche non perfette, però sicuramente è un uomo non facilmente controllabile e non sanno più come fare per impedirgli il prossimo anno di tornare alla Casa Bianca. Quindi adesso gli hanno aperto una nuova indagine, una era quella che dice che aveva toccato una donna nel 1980 e si è ricordata ora, un'altra era perché dice che aveva trattenuto documenti segreti che se li era portati a casa. Adesso l'hanno indagato pure per la storia di Capitol Hill. Terza incriminazione per l'assalto al Congresso, dice l'annuncio dello stesso Donald, dice caccia alle streghe. Ecco, queste operazioni sono la prova provata della corruzione dello Stato profondo, per cui io invito tutti gli americani, anche quelli che non credono in Donald Trump, a schierarsi a fianco a lui a difesa della democrazia, di fronte a questi assalti davvero schifosi, messi in piedi dal governo Biden che strumentalizza la giustizia per ragioni di lotta politica, per cui tutti dovrebbero stare con Donald Trump di fronte a manovre golpiste di questa natura. Ecco, Trump sulla sua piattaforma, ha scritto, rientrando da un appuntamento elettorale, ha scritto una lettera all'ufficio del procuratore speciale Smith, definito uno squilibrato, che gli comunica di essere bersaglio di un'inchiesta penale sugli eventi del 6 gennaio 2021, gli chiede di comparire dopo quattro giorni davanti a un gran giurì. Trump, prima di invire contro quella che definisce una caccia alle streghe, spiega che messaggi come questo sono quasi sempre una incriminazione. Per il Presidente sarebbe la terza, dopo quella di New York per reati finanziari e fiscali, quelli della Florida per la detenzione illegale di documenti segreti, seguirà l'incriminazione da tempo atteso in Georgia per la richiesta fatta da Trump ai funzionali elettorali di quello Stato del Sud di trovare gli 11.780 voti che gli mancavano per battere Biden. A differenza di quanto accaduto per la incriminazione in Florida, Smith, il procuratore, non ha fornito elementi sui reati che verranno contestati. Insomma, è l'ennesima operazione balorda di un sistema incancrenito. Evidentemente Trump non è funzionale alle mire di questi globalisti e di questi neocon che aizzano guerre dappertutto, che giocano con la vita della gente, che vogliono vedere sangue scorrere a fiumi in ogni angolo del pianeta e quindi per questo cercano di impedire a Donald Trump che in ogni caso con tutti i suoi limiti negli anni della sua presidenza non ha avviato nessuna guerra, vogliono impedire a Trump di tornare alla Casa Bianca. Secondo questo scienziato di Massimo Gaggi, Trump dovrà provare che lui non sapeva di avere perso le elezioni. Infatti Trump non lo sapeva, gliel'hanno detto dopo, ma ancora non ci credeva lì per lì. Va bene, cari amici, chiudiamo la rassegna di oggi con la verità, eccola qui, la verità di Belpietro che ci dice che l'Unione Europea ci paga per tenerci i migranti. Ecco cosa succede a cercare la soluzione in Europa, diciamo che siamo stati trattati peggio di Turchia e Tunisia, Erdogan, pacchi di miliardi perché fermi i flussi che disturbano Berlino. A Sayed appena 150 milioni, a noi le lemosi, le 14 milioni per migliorare l'accoglienza delle decine di migliaia che sbarcano a Lampedusa. La minaccia del ministro Picchetto Frati, ne dice, le case degli italiani vanno aggredite. Ecco ora, con la storia della necessità di combattere gli scaldamenti climatici, si diranno che ogni casa dovrà avere un suo valore energetico, quindi tutta una scusa questa per cercare di colpire al cuore la proprietà immobiliare degli italiani che è molto vasta e molto capillare. Naturalmente questa cosa dà fastidio ai capi di Davos che continuano a pianificare politiche che viaggiano sull'onda di quello slogan famigerato non avrete nulla e sarete felici. Ecco, non avrete nulla a partire dalla casa. Le brigate del caldo vogliono 10.800 miliardi, il G20 dà un'ottima spiegazione dell'insensato terrorismo sul clima, serve a far scucire questa spropositata gifra ai soli paesi emergenti in appena sei anni a tutto vantaggio di istituzioni finanziarie e multinazionali. C'è all'interno un ottimo articolo dell'amico Carlo Tarallo che prende in giro i terroristi climatici quelli che vedono tragedie dappertutto c'è un buon approfondimento anche di Borgonovo ecco, ma l'articolo che ci ha interessato più di tutti oggi è questo quello di Angela Camuso che ci parla di questo grande uomo di Bassetti finito all'ordine lo sport di Bassetti lo spot di Bassetti a chi gli ristruttura la nuova casa ecco la battuta così ci si isola in pandemia ecco come sapete Giovanardi responsabile sanità di democrazia sovranale popolare insieme a centinaia di medici ha inviato un esposto all'ordine di Genova per chiedere di prendere provvedimenti contro un uomo come Bassetti che negli ultimi anni ha aggredito ha insultato veri luminari a partire da Montagnier però insomma quest'uomo non si limita a questo ecco fa anche degli spot guardate che carino qui uno spot di Bassetti all'esame dell'ordine in un video su Youtube la Virostar faceva pubblicità a un'azienda che ristruttura i mobili di lusso e che ha restaurato anche la sua nuova abitazione a Genova è deontologicamente corretto alcuni colleghi hanno fatto partire una segnalazione Bassetti ha fatto da testimonio in uno spot intitolato case da VIP per un'impresa di ristrutturazione di appartamenti di lusso che in quel momento stava ristrutturando proprio casa sua ecco nel video pubblicitario Bassetti compare nello spot in virtù della sua fama come medico raggiunta all'epoca del covid quando dispensava consigli per lo più sbagliati dice è deontologico con sottofondo rock mentre scorrono immagini suggestive di Genova la pubblicità inizia con un architetto di bella presenza Alberto Vanini dice il rinomato virologo Bassetti direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico di Genova che tutti noi abbiamo avuto il piacere di conoscere in questi anni grazie al suo enorme contributo in tema di covid ha deciso di affidare i lavori di ristrutturazione della sua nuova casa acquistata con un investimento personale a facile ristrutturare ecco bravo Mastroto ma non potevi vendere materassi invece di stare se tu avessi fatto un'altra carriera te ne stavi là con Giorgio Mastroto non era meglio per tutti ecco Bassetti il video ci porta dentro l'appartamento dove sono in corso i lavori Bassetti compare davanti sotto casa l'attore che interpreta se stesso il medico chiede all'architetto di mostrargli come proseguono gli operai e così i due imboccono il portoncino della bella palazzina antica che affaccia su un ballatoio vista porto Bassetti ha prestato la propria immagine di medico di un grande spedale quella di Centro Università in uno spot pubblicitario per una ditta che gli sta effettuando i lavori in casa ecco proprio davvero una personcina a modo tuttavia lo spot è arrivato pure all'ordine dei medici di Genova che su questo punto è stato chiamato in causa in una lettera fermata da un centinaio che nel frattempo sono diventati oltre 200 camici bianchi che giorni fa hanno segnalato Bassetti all'autorità competente per i procedimenti disciplinari ecco Bassetti diceva di avere scelto questi professionisti per la qualità del servizio che offrono ecco a un certo punto l'architetto facendo ad una parete di isolamento da fare Bassetti coglie la palla al balzo e ci dice che in questi due anni è stato importante isolarsi bravo Bassetti ecco a marzo 2020 diceva che chi usava l'idrossiclorochina erano uno stregone i colleghi che usavano medicina in fase precoce venivano insultati i protocolli ministeriali che consigliavano di non curare erano sbagliati e Bassetti avrebbe dovuto saperlo d'altra parte ci sono le prove del fatto che abbia dichiarato falsità prima fra tutte che il vaccino serviva a proteggere gli altri ricorderete la canzoncina Natalizia ma lui è un indomito continua a fare la Virostar il finale dello spot è il profattore che propone all'impresa di ristrutturazione di realizzare una live in modo che la gente sappia come si fa in presenza di più inquilini durante una pandemia a isolarsi in casa e questo qui è stato uno dei protagonisti cioè delle figure di riferimento negli anni tragici della psicopandemia ecco ma un altro personcino a modo ecco questo qui un po' più addormentato però anche lui un altro grande cantante che insieme chi era il terzo Crisanti insomma ci aveva deliziato con quella bella canzoncina si 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 vax vacciniamoci eccolo qui Fabrizio Pregliasco direttore sanitario del Galeazzi traghettate da Caronte le Virostar tornano a dire balle Pregliasco mette in guardia dei rischi dell'aria condizionata e dei cambi di temperatura problemi già cosbalzi di due gradi cioè stanno già cercando questi di ricostruirsi una carriera da meteorologi i nostalgici dell'emergenza caldo hanno trovato nel caldo estivo il pretesto per lanciare nuovi allarmi anche sbalzi di temperatura di due o tre gradi sono deleteri ma quando il divario supera i cinque gradi il rischio di conseguenze negative è alto in questi giorni in cui la temperatura esterna sale oltre i 40 gradi è facile ammalarsi ecco dichiara il sempre ottimista pregliasco felice citato nel tornare a parlare di infezioni ci sono adenovirus ed enterovirus che hanno questo tropismo il tropismo è la tendenza di alcuni microorganismi a accumularsi in determinati organi o apparati ecco noi un dubbio su dove si siano accumulati questi microorganismi nel corpo di pregliasco lo abbiamo ma lo teniamo per noi anche a livello intestinale sono legati agli sbalzi termici di questi giorni ecco in cui ricorriamo un po' tutti all'aria condizionata ecco quindi pregliasco ci spiega che l'aria condizionata può essere anche pericolosa esilarante il consiglio che fornisce il professore su fortuna ricordando che dobbiamo acclimatarci prima di uscire di casa quindi mi raccomando caro popolo rivoluzionario dovete acclimatarvi prima di riuscire a fare le cose che avete in desiderio di realizzare acclimatatevi tutti in un clima di amicizia va bene grazie cari amici per aver seguito il controcanto anche oggi come sapete è disponibile l'ultimo numero dal nostro visione un altro sguardo sul mondo che potete acquistare alla sezione shop dal nostro sito www.visionedv.it da lunedì 24 sarà disponibile in prevenita il nuovo numero quello di agosto che affronterà il tema della paura come strumento di governo e di controllo un tema attualissimo sviluppato dai migliori pensatori liberi che il nostro paese offre per chi invece volesse aiutare Visione TV per il tramite di una libera donazione perché come sapete noi non abbiamo altro modo per sostenerci se non la vostra libera generosità potete farlo con bonifico Paypal oppure potete abbonarvi sul nostro sito www.visionedv.it grazie ancora a tutti voi una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti